104 tavoli di discussione per produrre idee per l'Italia di domani e nel mezzo alcuni fra i massimi imprenditori italiani che sono intervenuti come testimonial dal palco. In contemporanea alla manifestazione della CGL a Roma, anche la seconda giornata della Leopolda è vissuta nelle parole del premier Matteo Renzi sul tema di fondo del lavoro. Il tema è riuscire a raccontare a noi stessi come anche in tempi di crisi si può creare lavoro. A parlare dal palco per la prima volta anche Patrizio Bertelli, patron di Prada, che ha voluto rilanciare forte il messaggio del premier a cogliere questo momento per mettersi in gioco. Ci vuole esattamente tre cose fondamentali, l'entusiasmo, la convinzione e la determinazione. Noi dobbiamo diventare determinati nel voler cambiare l'Italia. Fra i protagonisti più seguiti della giornata è il finanziere Davide Serra, che ha animato al mattino il tavolo sulle PMI italiane, il capo dell'autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, intervenuto dal palco, e diversi ministri, fra cui Maria Elena Boschi, ovviamente protagonista della discussione sulle riforme, oltre a Del Rio, Madia, Pinotti, Lanzetta e Franceschini. Perché è stato ribadito anche dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti, da sempre la chermessa e fucina di idee e progetti. Ieri il presidente Renzi ci ha ricordato di alcune delle idee che erano appunto nate nelle prime e nella seconda Leopolda. Perché non possono venire fuori anche dai tavoli di oggi nuove idee per il governo, nuove idee anche per lo stesso Partito Democratico? Riferimento inevitabile quello al PD o perlomeno a quella parte di partito che ha scelto di scendere in piazza contro il Jobs Act. Io credo che il PD abbia bisogno di questa capacità di allargare i confini della discussione, di coinvolgere energie sempre nuove. Questo è un modo moderno di fare partito. Domani, l'ultimo atto con nuovi interventi da 5 minuti l'uno e quindi, all'ora di pranzo, le conclusioni che saranno affidate al padrone di casa Matteo Renzi. Grazie.